Benvenuti. Oggi comincia una nuova serie di sei puntate dedicate all'impero romano, nascita e caduta di un impero. A dire il vero la vicenda che raccontiamo oggi appartiene ancora all'epoca in cui Roma era una repubblica, ma ci aiuta appunto a capire come mai quella repubblica a un certo punto è crollata e ha lasciato il posto all'impero, che poi vuol dire al governo dell'uomo forte. E la storia dei fratelli Gracchi e in particolare del fratello maggiore Tiberio Gracco. Ricordate Cornelia, la madre dei Gracchi, che le amiche la compativano perché non aveva gioielli e allora lei fa venire i due ragazzini e dice ecco i miei gioielli. Questa storia ai miei tempi si imparava fin dalle scuole elementari. Gli inglesi della BBC che hanno prodotto questa serie, la storia di Cornelia hanno preferito non metterla e invece ci raccontano di Tiberio Gracco, il suo figlio maggiore e della sua carriera politica e ci fanno toccare con mano le contraddizioni che hanno fatto esplodere la Repubblica Romana. Contraddizioni. Vogliamo dire un'altra parola che magari è un po' fuori moda? Lotta di classe. Qui si parla di lotta di classe. I contadini si indebitano, si impoveriscono, sono costretti a vendere la terra e migrano a Roma. Un po' come oggi nel terzo mondo i contadini rimasti senza niente e migrano verso le megalopoli. Ecco Roma è la megalopoli dell'epoca, si riempie di contadini senza terra, di lavoratori disoccupati e nasce un partito democratico, nessuna allusione al presente, gli storici l'hanno sempre chiamato così, nasce un partito democratico che promette di difendere gli interessi delle masse. E come fanno i democratici a difendere gli interessi delle masse? Ecco Roma nel frattempo ha completato la conquista dell'Italia del nord, o meglio della pianura padana, che per i romani all'epoca non è Italia proprio per niente, è un paese straniero abitato da Galli. E conquistata la pianura padana i romani sequestrano le terre agli indigeni e le distribuiscono ai loro cittadini. E dal resto è per questo che si fanno le guerre e si conquistano i paesi. Ce n'è per tutti di terra, o meglio ce ne sarebbe per tutti se non fosse che i senatori se la prendono tutta loro e al popolo lasciano le briciole. Ecco il partito democratico si batte perché i senatori siano costretti a distribuire la terra a quelli che ne hanno veramente bisogno, ai poveri. Però a un certo punto Tiberio Gracco, come altri politici democratici dopo di lui, rimane impigliato nelle sue contraddizioni. Non è riuscito a realizzare tutto quello che voleva, tutto quello che aveva promesso. E allora si candida per un secondo mandato. La legge lo proibisce, ma lui fa cambiare la legge. E anche dopo, quando non riesce a avere la maggioranza, invece di rassegnarsi, fa ostruzionismo, duro, minaccioso. Per i suoi avversari è facile dire, vedete, quello lì vuole la dittatura. Qualche anno dopo, del resto, suo fratello Caio Gracco cadrà in una contraddizione ancora più imbarazzante e ancora più attuale a suo modo. Perché il partito democratico propone di dare la cittadinanza agli indigeni dell'Italia del nord. E chi si oppone è proprio il suo elettorato, i poveri di Roma. Perché se dai la cittadinanza a quelli là, non puoi più portargli via la terra. E allora non conviene ai nostri poveri che quelli là siano fatti cittadini. Sono le contraddizioni di una società dove i politici di mestiere, tutti ricchi di famiglia, competono per i voti delle masse popolari. Buona visione.